Amici di Motofan, parliamo di Moto2, parliamo di Le Mans, gara sotto il diluvio, gara molto bella, molto combattuta, tattica, tecnica, spettacolare, con passo falso, bruttissimo di Marc Marquez, il pilota destinato a finire presto in MotoGP e che invece è volato via. Vittoria per Thomas Liuti, stupendo podio per Corti, finalmente il nostro Claudio Corti è riuscito ad agguantare un fantastico secondo posto, bene Iannone è partito malissimo, è riuscito a recuperare e ha concluso in quarta posizione, ma il dato di fatto è che Paul Spargaro, che è riuscito a contrastare i problemi dovuti all'impossibilità di rimanere in piedi, ce l'ha fatta invece ad agguantare la leadership del Mondiale, scavalca Marquez per un solo punto. Questo è il verdetto di una gara estremamente interessante e importante per quanto riguarda Le Mans, molto bene i nostri, male Marquez, bene Liuti e Paul Spargaro. Amici di MotoFan è il momento di parlare della Moto3, chiaramente del nostro Fenati, ma a questo punto sarebbe meglio parlare e fare delle considerazioni sul fatto di correre su piste assolutamente insufficienti per capacità di resistere all'acqua come Le Mans, perché una gara con la Moto3 dove 15 piloti solamente arrivano al via e 15 volano via, ci dice che forse sì sono inesperti, sono giovani e sono grintosi, però davvero il grip a Le Mans in condizione di pioggia e le piove praticamente un giorno sì, e un giorno sì sono decisamente insufficienti. Sarebbe il caso di iniziare a valutare attentamente piste come Monza, Superbike o come Le Mans se hanno i requisiti davvero indispensabili per fare un grande spettacolo. Veniamo ora alla gara che è stata dominata col cuore da un pilota di casa, con un tifo incredibile da stadio, Luis Rossi è riuscito a vincere una gara difficilissima, durissima, dove realmente praticamente sono volati via tutti, tra cui anche il nostro fenomeno Fenati, che dopo un inizio veramente brillante sta accusando sfortuna, battute di arresto e problemi di gioventù. Bisogna lasciarlo in pace questo ragazzo e sperare che maturi velocemente, però in modo autonomo, senza il riflettore, il cono di luce dei mass media che lo hanno stordito dopo le prime due gare. A questo punto da segnalare un'ottima prestazione del giovanissimo figlio d'arte Niccolò Antonelli, che in questa bagarre, in questa serie di carambola è riuscita a stare in piedi e arrivare ai margini del podio. Un campionato che ancora non ha mostrato il suo dominatore, potrebbe essere Vignales, ma che ha avuto problemi anche lui in questa gara fatta praticamente ad handicap, chi riusciva a rimanere in piedi. Vedremo dalle prossime prove questa neonata Moto3, chi ci proporrà e quali saranno i valori che emergeranno.